Lino Banfi, ambasciatore dell'Italia all'UNESCO, va bene, e Gerry Calà, e Renato Pozzetto, e Umberto Smaila, ora apriamo questo dibattito, scherzi a parte, sorridiamo perché l'Italia è così bella che chiunque la può difendere, la può apprezzare, la può valorizzare in giro per il mondo, da ministro mi occupo di antimafia, a proposito enormi complimenti alle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, alla procura di Palermo, agli inquirenti, ai magistrati che stamattina hanno dato un'altra bella mazzata alla mafia a Palermo, arrestando nuovi boss, complici, collusi, amici e parenti, dove c'è puzza di mafia lo Stato entra ed entra a gamba tesa, quindi grazie per il vostro lavoro, grazie per il vostro impegno.